benvenuti a marwe marven benvenuti a marven ebbene fra poco prossimo mese uscirà al blu ray italiano di questo film di robert zemeckis si recensiamo recensisco l'ultima pellicola di robert zemeckis con un superbo steve carell ovvero benvenuti a marven ingiustamente ingiustamente il film più sottovalutato dell'anno mi stupisco dei bassi voti insomma della della media recensoria soprattutto statunitense di questo film ragione gianni canova vi dirò sottovalutato dell'anno soprattutto dalla sbadata superficialissima critica americana la sinossi ufficiale del blu ray è già uscita e sintetizza in maniera esemplare la trama pur tralasciando qualche rilevante snodo narrativo che naturalmente per chi non ha ancora visto il film non ci sentiamo di rivelare poi farò degli spoiler anche abbastanza tosti vi dirò quando in questo questo video allora la sinossi è questa mark ogan camp mette in scena nel proprio prato le gesta di un suo alter ego di nome oghi in un fittizio villaggio belga durante la seconda guerra mondiale captain oghi è un pilota la pronuncia esatta è oghi in originale dice oghi un po come orso yogi oghi o gli oghi o gli americano in lotta contro i nazisti e protetto dalle donne di marvel che sono poi la trasfigurazione delle donne che hanno aiutato mark durante la sua terapia egli è infatti reduce da un pestaggio di natura omofoba e da una lunga ma insufficiente riabilitazione tanto aver perso sia la memoria sia la capacità di disegnare elabora la tragedia l'elaborazione del lutto lo fa a modo suo fotografando le scene che crea nel giardino con bambole di donne eleganti action figure figure dei soldati quando arriva una nuova vicina nicole senza la e quindi non nicole kidman nicole mark cerca di raddrizzare la propria vita e di liberarsi dalla dipendenza dagli antidolorifici probabilmente anche dagli psicofarmaci questo non viene molto esplicitato nel film ma probabilmente è così allora mark è interpretato da steve carell e nicole dall'avvenente dolce leslie man anche se sul dolce vi dirò il film è tratto di una sfera vera leggermente romanzata ma neanche tanto a dire il vero dallo stesso zemeckis e dalla sceneggiatrice caroline thompson quella di collaborato adesso non più però ha collaborato stata la scrittrice la writer di molti fini tim burton come edward money di forbice la famiglia adams nightmare before christmas vi rivelerò questo la famiglia adams di barry sonnenfeld è uno dei miei film preferiti sì sì quando avevo 14 anni me lo guardavo sempre che hanno attinto a piene mani dalla stramba agghiacciante al contempo prodigiosa vita dell'omonimo fotografo senza memoria così è stato definito mark ogenkamp a cui è stato dedicato anche un documentario marvel call marvel call inizialmente doveva essere infatti poi per chi vede ha visto vedrà il film alla fine il film vabbè dove essere infatti anche il titolo di questo film di zemeckis quale poi per non creare disambiguazione no ha preferito il definitivo welcome welcome to marvel scartando il working title titolo il titolo di lavorazione insomma the the woman woman con la e non è the woman the woman woman of marvel marvel permettete a chi scrive a chi in tal caso recita questo pezzo di fare una considerazione infatti questa più che una recensione una riflessione su zemeckis e probabilmente anche sulla vita il giocare di affascinanti parallelismi fra il cinema di zemeckis e quello di eastwood registi due registi eccezionali entrambi come sappiamo totalmente ignorate l'ultima edizione degli oscar per i loro rispettivi film infatti gianni canova nella sua disamina agli oscar dice che non sono stati presi in considerazione probabilmente quelli che erano i film diciamocelo migliori dell'anno cioè the moon il corriere di eastwood e questo welcome to marvel infatti zemeckis ha definito in più occasioni ma matto per zemeckis il più grande regista immaginifico odierno dotato di una poetica incontrovertibile pari per potenza espressiva a quella di clint eastwood ora due cineasti molto diversi agli antipodi come si suol dire a prima vista zemeckis e eastwood ed eastwood eastwood è un cantore del neorealismo poetico e cinico schietto obiettivo nelle sue crude osservazioni talmente romantiche da diventare quasi insopportabili poiché troppo vere zemeckis è altrettanto realista pur camuffandosi dietro espedienti e scamotage digitali altamente sofisticati fra live action e motion capture impressionanti per assoluta verosimiglianza è un creatore di finzione attraverso cui riflette sul potere incantatorio taumaturgico curativo del cinema che perché la settima arte a sua volta è una macchina ludicamente fantasmagorica infatti è stato accusato esempio da paolo merighetti che credo questo film non l'abbia capito di aver virato troppo sul versante ludico 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 fantasmagorica che catalizza il mondo nelle sue micro storie dilatate a visione umanistica nel suo prospettico caleidoscopio si espande a rifrangenza iperrealista al contempo surrealista c'è una labile differenza fra iperrealismo e surrealismo a volte i due termini coincidono come nel caso del cinema di Robert Zemeckis è un discorso complesso andrebbe approfondito ma ci saranno cattedratici professori universitari di storia del cinema che potranno illuminarvi meglio di me ma da sempre eccezione fatta forse del suo semplicemente picaresco avventuroso all'inseguimento della pietra verde Zemeckis con la sua celluloide fantasiosamente iperbolica vivi sezionato e nucleato le nostre paure di esseri umani catapultati in questo mondo tremendamente stupendo nella sua ferocissima atrocità nella sua ferina brutalità perché a me non piacciono i film retorici di Zemeckis come dirò non è mai retorico perché sono falsi, sono ruffiani, sono consolatori cioè dicono quello che molta gente si aspetta di sentirsi dire cioè tu sei stata una persona sfortunata e quindi hai bisogno del film che ti consoli non va bene, bisogna essere cinici, dirsi la verità non c'è niente di cui vergognarsi è meglio guardare in faccia la verità piuttosto che nascondersi negli alibi eccetera eccetera con i suoi ingegnosi marchi ingegni visivi apparentemente di plastica il grande Bob ogni volta ci illumina, ci emoziona, ci stupisce non sempre azzecca pieno il film giusto talvolta sbanda, soprattutto negli ultimi anni ha sbandato parecchio ma è tipico di ogni artista eccedere, sbagliare la mira non centrare perfettamente il bersaglio l'artista è questo attenzione quando noi diciamo è un artista non significa che sia necessariamente un genio che tutte le opere che realizzi siano dei capolavori assoluti non è obbligatorio, anzi sarebbe disumano che impeccabilmente, appunto, in tal caso Zemecki si indovinasse il capolavoro assoluto non sarebbe un artista, sarebbe un mostro ecco, sarebbe appunto disumano già Contact, La morte ti fa bella, Le verità nascoste Cast Away sono bei film si, si, si guardano volentieri ma peccano rispettivamente di troppe esagerazioni Contact, il film con Jerry Foster e Matthew McConaughey è una riflessione sul tempo, sul futuro, sulla morte ma a volte si fissa i misticismi New Age a differenza di ciò che fa ad esempio Clint Eastwood proprio con Year After d'aria fritta i lirismi da catto rimanendo in superficie La morte ti fa bella al di là delle mirabolanti prudezze della computer graphics di allora è indubbiamente una pacchianeria smodata sostenuta soltanto dalla verve di Mary Streep e di Goldie Hawn e dalle bellissime gambe di Isabella Rossellini peraltro doppiata nella scena del nudo posteriore non so se lo sapete dalla magnifica Catherine Bell che era una delle mie fisse dell'adolescenza Catherine Bell ne ho parlato anche in vari video Le verità nascoste è sostanzialmente un film noioso un'Hitchcockiana fra l'altro le citazioni a Hitchcock col campanile ci sono anche benvenuti a Marvin Vertigo Vertigo la donna che visse due volte è un'Hitchcockiana fesseria con un Harrison Ford che quando appunto non lavora con Spielberg per Indiana Jones non è Ian Han Solo di Guerre Stellari non è il detective di Blade Runner Harrison Ford ha la tendenza a essere monolitico un Harrison Ford imbalsamato e legnoso retta solamente dal fascino immortale di Michelle Pfeiffer Castaway lasciamo perdere non che sia brutto però uno di quei film che dimentichi dopo 5 minuti Forrest Gump è uno dei suoi film più famosi quello scarizzato il mio nome è Gump Forrest Gump quello più citato parodiato e visto da chiunque ma è a conti fatti un'elegia fake una zuccherosa bugia gente come Forrest a questo mondo sì questo succede nel cinema no non incontrerà mai il presidente degli Stati Uniti potrebbe anche incontrarlo sì per sbatterlo in manicomio e non sposerà la sua bella principessa nel suo ultimo sogno meraviglioso gente come Forrest la trova in qualche CSM centro di salute mentale derisa la mattina sera da qualche bifolco i film più belli di Zemecki sono Flight sul quale mi ero espresso in termini non del tutto positivi tempo fa mi sono un po' ricreduto anche se non è un capolavoro secondo me nonostante le sue tante imperfezioni sia un bel film A Christmas Carol con uno straordinario comodamente Jim Carrey altro film totalmente frainteso della critica geniale rielaborazione sappiamo del classico per antonomasia di Charles Dickens e torniamo Charles Dickens torniamo a Hereafter torniamo a Clint Eastwood vero? ovviamente chi ha incastrato Roger Rabbit il suo masterpiece mi pare perfino pleonastico evidenziarlo e che ve lo dico a fare che ve lo dico a fare ritorno al futuro back to the future chi l'ha detto? dove sta scritto che quel nero non possa davvero diventare il sindaco? chi l'ha detto che George McFly non possa diventare lo scrittore di fantascienza più bravo del mondo il nuovo Isaac non Oscar Isaac Al Asimov quello del ciclo della fondazione di Your Robot infine questa sua ultima opera molto toccante appunto forse troppo feticista gli americani hanno usato un altro termine talvolta superficiale ma nichea ma profonde benvenuti a Marvel un altro insegnamento morale strepitoso c'è questo ognuno al mondo è libero di vivere come vuole è libero di crearsi il suo mondo è libero di vivere di fantasie di crearsi la sua realtà e questo viene palesato nei titoli di coda perché il signor Hogan Camp continua a farsi i cazzi suoi e continua a vivere come gli pare addirittura ha popolato il suo villaggio di altri pupazzi perché in fondo tutti noi anche i più nazisti quelli apparentemente quelli sono i più i più teneroni si nascondono dietro questa apparenza da da maci da duri più bastardi intransigenti più intolleranti e cattivi senza il loro stupido mondo idiota eh già non saprebbero vivere non sarebbero niente e nessuno perché la realtà di ognuno di noi è relativista solipsistica un viaggio che come diceva Raskol torniamo a McConaughey di True Detective forse si è svolto soltanto nella nostra mente il resto è melenza retorica sia di destra che di sinistra mi definiscono apolitico a volte nichilista no 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 io credo in alcuni valori ma non credo nelle ideologie nell'essere troppo radicali si rischia di 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 confondere le cose di di ragionare per bianco contro nero ma non non parlo di razzismo bianco contro nero avete capito cosa intendo ecco di non osservare le sfumature le scremature che invece vengono fatte e le marginazioni eccetera eccetera mentre il cinema di Zemeckis malgrado le sue spettacolarizzazioni a volte indigeste retorico non lo è mai non lo è mai sì il cinema di Zemeckis e quello di Eastwood sono più simili di quanto potrebbero sembrarci di primo acchito d'altronde vi ricordate la battuta di Michael J. Fox in torno al futuro parte terza come ti chiami Pivello Mark Eastwood Clint Eastwood dunque benvenuti a Marvel pur difettosa e qualche volta artificiosa è un film bellissimo perché dico che non è retorico attenzione stavo cascando anch'io no a mezz'ora dalla fine succede qualcosa e io dico no Zemeckis me la butta sul film Dolciastro e no adesso spoiler quindi potete interrompere l'ascolto e la visione di questo video il signor Mark si illude che Nicole che lui idealizza no idealizza veramente si sia innamorata di lui come lui si è innamorato di lei e le fa proprio sfacciatamente una proposta di matrimonio le chiede vuoi sposarmi e lei con molta delicatezza gli dice sinceramente no guarda tu hai frainteso tutto e lui rimane pietrificato per circa un minuto un minuto abbondante rimane così proprio paralizzato e si lui ha frainteso tutto perché Nicole alla fine è una stronza come tutte le altre no torniamo forse a Travis Bicol di Taxi Driver lei è come tutti gli altri alla fine si è tanto dolce tanto carina tanto affettuosa tanto premurosa tanto solidale ma alla fine probabilmente chi la fa godere è lo stronzo nazista e capirete perché quindi retorico non lo è affatto e alla fine il nostro Steve Carell Mark ha questo coraggio pazzesco un coraggio pazzesco di guardare in faccia i suoi assalitori e di chiedere proprio esplicitamente al giudice no io voglio che queste persone a queste persone si è inflitta una condanna dura perché loro sono stati durissimi con me loro non hanno accettato le mie diversità la mia diversità non hanno accettato perché io dovrei perdonarli no e che sono un bambino di otto anni io non li perdono quindi loro è vero non è un mio delirio paranoide non è un un mio disturbo delirante la porcata l'hanno fatta è anche grave una porcata imperdonabile e non transige Steve alla fine lui dice voglio che queste persone soffrano tutta la vita e che vivano nel rimorso e che non mi rompano più le scatole non mi rompano più le scatole benvenuti a Marvin è un film bellissimo quindi amici quando vi sentirete dire trovate una vita vostra se no fate un po' pena ma noi abbiamo già la nostra vita che è quella degli artisti se a qualcuno il nostro atteggiamento risulta quello dei pagliacci dei vigliacchi a noi non sbatte proprio ecco ci siamo capiti questa è la nostra vita probabilmente chi dice così lo fa per esorcizzare ancora le sue debolezze perché lui l'uomo debole che non sa cosa vuole della vita preso travolto da mille messaggi frastornanti è uno che vuole pigliare di qua è uno che vuole pigliare di là fa i discorsi di sinistra però si comporta come uno di destra e qui sono un po' come Giorgio Gaber è lui che non ha la sua vita soprattutto mentale soprattutto nella sua anima benvenuti a Marvin e questa è un'altra mazzata che io vi do giustamente grazie a tutti